Venezia e Juventus brutta battuta d'arresto per la squadra bianconera, buon primo tempo e poi un secondo tempo assolutamente incredibilmente negativo. Juventus che lascia due punti allo stadio penso, veramente poco preventivabile dopo la prima frazione di gioco. La Juventus che aveva creato ben cinque occasioni ed era andata in vantaggio con Morata, per me il migliore della squadra bianconera almeno nella prima frazione di gioco. Buona anche la prova di Luca Pellegrini che ha fornito il suo primo assist in bianconero e poi purtroppo nel secondo tempo la squadra ha subito l'iniziativa del Venezia che nella prima frazione di gioco aveva badato solamente a non prenderle mentre invece un secondo tempo buono da parte della squadra di Paolo Zanetti. Top e flop della partita, top sicuramente Morata, ripeto secondo me il migliore e poi Luca Pellegrini. Flop, quadrato non mi ha convinto la posizione e la partita del colombiano e poi c'è sempre Rabiot, vorrei inserire e poi come è entrato Alexandro, secondo me in maniera molto negativa, sembrava con la testa da un'altra parte. Adesso si riprende con la trasferta di Bologna, però è certo che alla Juventus servirà un'altra mentalità e soprattutto un'altra grinta, un'altra voglia perché altrimenti una stagione così in Serie A sarà molto 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 complicata.